Si è ripetuta ieri per la dodicesima volta la manifestazione in bicicletta La Libertà che venne dal mare, un evento che continua a ricordare e onorare gli eroi della resistenza italiana. Ideata da Franco Sbrolla insieme a Gigino Braccili e ispirata al libro Abruzzo Caput, questa manifestazione porta avanti il ricordo delle storie di coraggio e sacrificio legate alla lotta per le libertà. L'evento è organizzato dalle guide del Borsacchio in collaborazione con FIAB, WWF, l'Istituto Abruzzese Are Protette e gode del patrocinio e della partecipazione attiva del Comune di Roseto. Durante le tappe della manifestazione sono state deposte corone di fiori per ricordare i caduti della resistenza, un gesto simbolico che sottolinea il rispetto e la gratitudine verso coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà del nostro paese. Il percorso della manifestazione tocca luoghi simbolo della resistenza, tra cui la foce del torrente Borsacchio, teatro di agguati nazifascisti durante il periodo bellico. Prima della partenza le istituzioni si sono unite per commemorare i caduti e coloro che hanno dato la vita per la libertà, rendendo omaggio al monumento dei caduti e alla targa di Libero Pierantozzi. L'entusiasmo e la partecipazione della comunità locale e delle istituzioni sottolineano l'importanza di mantenere viva la memoria storica e di trasmettere ai giovani le lezioni di coraggio e resilienza delle generazioni passate.